Musica Bello a tutti ragazzi e bene, ritornati dal vostro gioco Siamo tornati su The Sims ragazzi, su YouFamily Ovviamente ragazzi, un bel pollice, nessuno ce lo deve togliere nessuno Ragazzi, finalmente siamo tornati in questa serie che mi state chiedendo veramente tanti Allora, eravamo rimasti qui Che è il poro Sodin che dorme sul divano Allora, dobbiamo vedere un pochino di obiettivi ragazzi Questo è Sodin Il suo obiettivo sarebbe allenati, di allenarsi ed è fatto al 50% Ovviamente c'ha sonno tantissimo Lo mandiamo a dormire su un bel letto, almeno sta più comodo ragazzi Anche perché qui appena abbiamo dei soldi disponibili Dobbiamo ampliare la nostra casa e migliorarla Allora, troppi piatti I piatti sporchi si stanno accumulando Mirko non riesce a stargli dietro Mirko deve sovraccaricare la sua lavastoviglie Aumento del rendimento Ed è ottimo così Allora, vediamo un pochino il nostro Vegas ragazzi Il nostro Vegas in che del giorno compila rapporti Vediamo se deve farlo qua La carriera non è carriera Scrivi Esercita No, cosa gli possiamo fare fare? Apri taccuino Boh, non saprei cosa fagli fare Ok, il taccuino di Vegas non è disponibile Allora, cosa possiamo fare? Esercita la programmazione? Non lo so, fa qualcosa Non saprei che ditte Di carità Quindi invece di Vegas Visto che è quello più difficile da prendere Allora, intanto io Ecco, io stavo dicendo Io mi andavo a fare una doccia E il mio se ne andavo riccamente a dormire E' rimasto Ciccio E Ciccio gli facciamo Ma sostituisci Tanto ha portato adesso a casa i big money Il nostro Dexter Ben 40 dollari ci ha portato Che cazzo, 90 dollari Ma che fai? Allora Raggiungi il valutore di cucina Ciccio l'ha fatto Deve preparare del cibo E mixare delle bevande Allora, facciamo così Dove si faceva Leggi qualcosa Però no, attenzione Attenzione, attenzione Facciamo così Apri Ok E ci veniamo Eccolo qua Il nostro Leggi alta cucina Perfetto ragazzi Così almeno Gli diamo l'obiettivo Di leggere qualcosa E può mixare le sue bevande O quello che sia Non inizia Odice ancora Preparate il cibo Mixate le bevande Quindi che cazzo Ci sto facendo fare a leggere Quel libro là Che non serve a niente Serviamo la colazione per tutti Un po' di uova Strapazzate Per Todos Tra un po' Suri Stepney Vanno al lavoro Ottimo Così Vediamo un po' Il nostro personaggio Cosa sta facendo Deve mixare le bevande O anche lui Preparare del cibo Qui si è rotta La televisione Ripariamola a mano Perché 1300 Perché 1300 Assolutamente Non li sgancio Neanche se mi pagano oro Qua il nostro Giuseppe Deve andare al lavoro Ok Si svegli Gentilmente E tra poco Deve andare a lavorare Grazie mille Gentilissimi Allora Vediamo un po' Vediamo un pochino Sodin e Dexter Se la parlano Però raga Dexter Allora cosa deve fare Intenzioni maliziose Intenzioni maliziose Con chi lo possiamo fare? Con Suri No con Sasha Fai un discorso Esorativo Ma non so se Tanta volte No Non è iniziato Quindi dobbiamo fare Prendiamo sempre Anima Altre scelte Malizia Inganna Dando la scossa La mano Vediamo un po' Altre scelte Sempre malizia Metti in giro Una voce insensata Spaventa Spaventiamolo Perché dobbiamo Arrivare Nel livello 2 Ragazzi Eccolo qua Ci siamo arrivati Ottimo Ottimo Rossale 25% ancora Purtroppo Me la do prende con te Anima Non ci posso fare nulla In stile Falsa fiducia Inganna Dando la scossa La mano Ah E sei andata a lavorare Porca miseria Niente Quindi sono andata a lavorare E ora ce la prendiamo Con ciccio Quindi malizia Sostieni di essere Un geno del criminale Così Non lo so perché Inganna Dando la scossa La mano Poi vediamo un po' Cosa possiamo fare Menti sulla carriera Ti fai finta Che sei tipo Che cos'è Mentre sta lavorando Nello spogliatoio Davide nota Che la stella Della squadra Ha un'ondatura Chiaramente Claudicante Quando nessuno Alto lo guarda Davide deve segnalare All'allenatore L'evidente infortunio Ovvio Perché se no te spezzi Calo del rendimento Ecco Sodine era meglio Se facevamo I cazzi Nostra Oh Attenzione È stato promosso Assistente di ufficio Il nostro Vegas Ragazzi Guadagnerà 20 euro All'ora E lavorerà 4 giorni Bravo Vegas Stavamo molto soddisfatto Di te Ma veramente Tanto Bravo 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 Minchia C'ha un sonno bestiale Infatti andrà a dormire Vediamo anche Surry Surry al Quando ho iniziato Allora 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 Non ho iniziato Gioca a scacchi Quindi vai Gioca a scacchi Oddio Sono svenuto Qui in mezzo Cosa devi fare Raggiungi il livello 2 Di carisma Per sviluppare carisma Sto agito con altri sims Usa lo specchio Per esercitarti Ok Allora La prima cosa Che dobbiamo fare Ragazzi Per il nostro Sascione Mettiamo un bello Specchio Vediamo un po' Specchio da muro Di mia meraviglia Specchio da muro Ci mettiamo questo Che è molto Molto Gagliardo Vabbè Lo prendiamo anche Di questo Colore normale Non lo possiamo Mettere da nessuna parte Attenzione Qua si Mai Lo mettiamo in camera Tanto giustamente Uno si deve Allenare Nella propria stanza Quindi andiamo subito A esercitare Il nostro Anima Nei discorsi Che gli servono Non so che cosa Ma gli servono Infatti lo ha fatto Ragazzi Livelli Livello 2 di carisma Quindi vabbè C'è quasi Ci sta arrivando Ragazzi Questo è facile Un obiettivo È un obiettivo Molto facile Quindi già Anima potrebbe essere Di nuovo promosso La prossima volta Speriamo bene Anche il nostro Sodin Deve avere il livello 2 di carisma Attenzione Attenzione Quindi anche lui Si deve esercitare Tantissimo Esercitiamo Nei discorsi Quindi il nostro Anima Ci è arrivato Perfetto Anima è un genio Del male Un genio del male Quindi è arrivato Anche qui Deve cagare Si deve fare una bella doccia Quindi fai tutto quanto Usa Usa E poi Facciamo preparare Da me Un po' di cibo No? Fai un passo veloce Cucina per tutti E mettiamo Un po' di maccheroni A formaggio Formato festa Visto che siamo in tanti Dex per il momento Ragazzi Guadagna veramente Pochissimo Guadagna 91 dollari Siamo arrivati A 3165 dollari Quindi già Nel prossimo appuntamento Potremo effettuare Alcune modifiche Nella camera Quindi potremo Un po' sistemarla O dividerla Oppure Allargarla Un altro pochino E mettere I letti Un po' più sistemati Con dei mobili E cose varie Per la vicina Ragazzi In quanto dobbiamo aspettare Perché siamo Veramente a corto di soldi Attenzione Surreal Power Promosso a pulitore Di moduli E non è male Ragazzi eh Bravo il nostro Surreal Promosso anche lui Ragazzi Stiamo andando Veramente Ottimo Compila rapporti Non riesco a Ah Anche Vegas Deve compilare i rapporti Ma non so come si fa Ragazzi Mi fate sapere nei commenti Come si faccia A compilare i rapporti E con Stepney A esplorare i servizi Segreti Ragazzi Me lo fate sapere Gentilmente Perché non so capace Vedica la verità Non lo sto capendo Ok Con Ciccio Siamo al 75% Ragazzi Quindi stiamo andando Veramente bene Credo che manca L'ultima volta Rapporto sulla minaccia Stefano Ha un ponderoso Rapporto sulla nuova Minaccia emergente Da consegnare domani Al lavoro Ma è sommerso Di arretrati Può chiedere In segreto L'aiuto di un altro Ricercatore O lavorare tutta la notte Per ultimarlo Lavora tutta la notte Lavoriamo tutta la notte E caldo del rendimento E porca puttana Non ci azzecco mai Regà Non ci azzecco mai Allora Qua cosa abbiamo Ciccio Facciamolo cucinare ancora Forse Un piatto ricco di proteine Vai Facciamo così Che forse riusciamo a fare L'obiettivo al 100% Prima di andare al lavoro Ragazzi Se ci riusciamo Vediamo un po' Ciccio sta andando lì Il mio Cosa deve fare Completato Quindi deve stare Molto bene Con il suo Diciamo Rapporto cibo Prendiamo una porzione Perché il mio Deve mangiare Ragazzi E Vegas Non è al lavoro Attenzione Attenzione Vegas Non è al lavoro Sta facendo tardissimo C'è andata adesso Ragazzi Vegas Cosa mi combini Devi andare a lavorare Vediamo se Ciccio abbiamo fatto L'obiettivo Completato Perfetto ragazzi Completato anche Ciccio Che non so Quando va a lavorare Però intanto Lo facciamo andare a dormire Un po' Perché è veramente stanco Intanto guardate Quanto è carino Qui il nostro Posta misteriosa Mentre smista la posta Giuseppe si imbatte In un pacchetto Contrainsegnato Dalla Di clitura Urgente Dicitura Urgente Ma con il nome Del visitatore Imbrattato Come deve comportarsi Giuseppe Con il pacchetto Misterioso Inizio a tutta L'azienda Un email Con una richiesta Di aiuto Ad aspettare Che qualcuno Un sacco Un paccoggio Un via un email Aumenta il rendimento Oh Finalmente Madonna mia Ragazzi Sta rovinatissimo E' veramente stanchissimo Allora Gli ultimi cose Che vorrei fare oggi E' Faggiamo Faggiamo mangiare qualcosa Al nostro sogno Vabbè ci sta pensando da solo Ottimo Si deve allenare sempre Quindi vai Vatti ad allenare Cosa è successo Ma vai al lavoro E' tornato a casa Ma vai a lavorare Vegas So che sei stanco Ma vai a lavorare Cosa fai a casa No Era surria Scusate Era surria Ragazzi Sta succedendo Un portello Assurdo Il mio va a lavorare Io e Cisci andiamo a lavorare Tra circa un'ora E' tornato Stepney Servizi segreti Non so cosa fare Di logica Livello 2 Di logica Ragazzi E potrebbe essere qualcosa qua Valo da mosse Vediamo un po' La logica potrebbe servire Libri Acquistabili Ok Acquista libri Acquista libri Allora per sviluppare Quello che deve fare Ciccio sta messo Veramente male Svegliete Ciccio Perché devi andare a lavorare Assolutamente Ragazzi Facciamo così L'appuntamento di oggi Può terminare qua Stiamo andando Veramente benissimo Questo stanno chiacchierando Un pochino Ciccio sta andando a lavorare Dex tra poco Va anche a lavorare Consigliatemi Come fare gli obiettivi Quelli di Vegas E di Stepney Qui sotto nei commenti Perché ragazzi Non li so Come posso fare Fatemi sapere voi Mi raccomando nei commenti Spero che questa serie Vi sta piacendo sempre di più Ragazzi Stiamo andando Abbastanza bene Madonna mia Che è questo Facciamo riparare a Sodin Facciamo riparare a Sodin E niente ragazzi Tutti i social In descrizione Mi raccomando Arriviamo a 15.000 like Per questo appuntamento Se ne volete altri Sempre della carriera Di YouFamily Stiamo andando veramente bene Chissà se la prossima volta Già possiamo iniziare A fare un po' La casa migliore Oppure mettere una piccola piscina Non lo so Ragazzi Mi vedo Potete venire qua Ci vediamo Un prossimo appuntamento Sacchetto di carta Arraffa il sacchetto Così a random Non sappiamo cosa è successo Alla prossima appuntamento Bene ragazzi Così 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 Grazie.